In studio Viviana Sammito. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questa nuova edizione di MTG. In apertura vi parliamo della protesta mondiale che ha coinvolto studenti ma anche associazioni contro l'inerzia della politica rispetto al cambiamento climatico. Manifestazioni anche in provincia di Ragusa per aderire alla mobilitazione lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. Noi siamo andati a Vittoria questa mattina per noi già da Quinta. Si sta manifestando a livello mondiale oggi contro l'indifferenza dei governi verso i cambiamenti climatici. Ad alta voce si chiede che vengono presi i provvedimenti efficaci per ridurre l'inquinamento, obbligare gli adulti a rendersi conto che il mondo del futuro è dei ragazzi, così come sta facendo Greta Thunberg, la studentessa svedese di 16 anni che ha messo in moto questo movimento globale. Anche Alice Imbastari, in nove anni, che frequenta una scuola elementare di Nettuno in provincia di Roma, insieme ad altre bambine ha firmato una lettera aperta per richiamare l'attenzione dei grandi sulla questione climatica. Mi ispiro a Greta, ha detto Alice. Quando ho sentito la sua storia ho pensato che avesse fatto una cosa bella e che dovevo aiutarla. I nostri genitori e le persone più grandi hanno avuto un futuro, adesso lo vogliamo anche noi, ha aggiunto ancora Alice. Friday for Future, accolta dagli studenti di tutto il mondo, nasce a seguito della protesta iniziata da Greta Thunberg, una studentessa svedese di 16 anni che lo scorso 20 agosto ha deciso di non presentarsi più a scuola fino al 9 settembre, giorno delle elezioni politiche, per chiedere al governo di occuparsi più seriamente del cambiamento climatico, adottando politiche più incisive. La storia di Greta ha superato i confini svedesi e anche europei conquistando tutto il mondo, tant'è che è stata definita una delle 25 adolescenti più influenti al mondo e proposta come candidata al premio Nobel per la pace. Sì, fino a che comincia a concentrare su ciò che deve essere fatto, invece di quello che è politicamente possibile, non c'è speranza. Non possiamo soltare una crisi senza trattare la crisi come una crisi. Ci sono necessità di mantenere i fosili fosili in grado e ci sono necessità di concentrare l'equità. E se le soluzioni dentro questo sistema sono così impossibili da trovare, magari dovremmo cambiare il sistema in grado. Non siamo venuti qui per pregare i leader mondiali di care. Tu ci ha ignorato nel passato e tu ci ha ignorato ancora. Abbiamo scelto di scuola e stiamo scelto di tempo. Insomma, una mobilitazione mondiale che anche in provincia di Ragusa ha visto una partecipazione massiccia da parte degli studenti e non dei 12 comuni Iblei. Anche a Vittoria si protesta per l'ambiente. Un affolto gruppo di studenti stamattina si è riunito in piazza Antonio Gramsci davanti all'istituto professionale Marconi. hanno parlato, hanno fatto sentire la propria voce proprio perché hanno detto che ci resta poco del futuro se esauriremo tutte le risorse e se non avremo a cuore la salvaguardia dell'ambiente. È una sfida questa che abbiamo di fronte e che non è legata semplicemente al nostro istituto o semplicemente a questa realtà territoriale. Oggi noi siamo parte di un movimento mondiale. In questo momento, in tutti i posti della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa, del mondo, milioni di studenti stanno prendendo in mano il loro futuro. Abbiamo bisogno di far vedere che dalla nostra parte c'è voglia di rivoluzionare un mondo che si sta rovinando, lo stiamo sgretolando con le nostre mani e vogliamo partire da qui. Insieme al professore Zisa ha deciso di partire davanti a una scuola per far vedere che i giovani devono essere il futuro. Penso che sia importante considerare questa giornata di sciopero mondiale solo come il punto di inizio di un movimento di protesta che deve espandersi perché il cambiamento climatico non riguarda solo una frangia, non riguarda solo gli studenti ma riguarda tutti noi. Però io credo che sia necessario perché il tempo che ci rimane è veramente poco. E se non mettiamo in discussione il nostro modello di concepire la vita e di concepire lo sviluppo potremmo pagarne a caro grezzo le conseguenze. L'ambiente va rispettato sempre e comunque quindi c'è nel nostro piccolo, siamo uno, potremmo diventare cento, potremmo diventare mille, come un milione. E quindi l'ambiente va rispettato sempre, non è fuori moda mai. Noi con il nostro piccolo possiamo cercare di non sporcare ad esempio l'ambiente, quindi semplicemente non buttando le carte a terra, le sigarette, non buttandole a terra. Ci sono tantissimi secchi qui anche a scuola. Il venerdì per il futuro conquista anche Catania, migliaia di studenti in strada in un corteo che serve a svegliare le coscienze della politica affinché si applichino nuove regole per salvaguardare l'ambiente. Sentiamo Sara Donzuso. Oggi anche Catania ha risposto presente al venerdì per il futuro, un non venerdì quello che stiamo vivendo che cambierà decisamente la storia, perché decine di migliaia di studenti in diverse parti del mondo hanno partecipato a questo sciopero scolastico per il clima, una manifestazione organizzata per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Seguendo l'esempio di Greta, la sedicenne svedese che ha deciso di fare della tutela dell'ambiente una propria lotta di vita. Greta, fresca di candidatura al premio Nobel, sta diventando un esempio per migliaia di giovani. Ragazzi, cosa vi ha insegnato Greta? Ci ha insegnato che comunque bisogna avere rispetto per l'ambiente, noi oggi siamo qui per protestare e manifestare questo disprezzamento che c'è da parte delle autorità, che comunque è dello Stato, che comunque non si preoccupa dei veri problemi importanti che ci sono tuttora. Per cui oggi siamo qui numerosi insieme a tantissimi altri ragazzi nel mondo e lottiamo per far sì che le cose migliorino dal punto di vista sanitario e ambientale. Noi per l'ambiente di grande non ci è permesso fare un granché, però noi nel nostro piccolo cerchiamo di rispettarlo quanto più possibile, quindi dalle piccole cose che possono essere appunto non buttare le cicche per terra, alle cose un po' più grandi come potrebbero essere i progetti di riqualifica dei territori e quindi andare nella spiaggia libera e ripulirle o nei grandi parchi che solitamente quelli comunali sono un po' abbandonati a se stessi e allora li ripuliamo. Tra l'altro in questi giorni, sempre in vista di questo fantomatico 15 marzo, abbiamo organizzato diverse conferenze sia nelle scuole anche nelle università. Voltiamo pagina, l'associazione concessionari del mercato di Vittoria chiarisce alcuni aspetti rispetto alla sentenza del Tar di Catania che ha respinto l'istanza presentata dai sei concessionari vortofrutticoli contro il comune di Vittoria per l'annullamento degli atti con i guai. La commissione prefettizia aveva indetto il bando per l'assegnazione di 74 box. Intanto, come anticipato già ieri nell'edizione delle 14 e 15 di MTG, la Polizia di Stato su delega della Procura di Ragusa ha sequestrato numerosi documenti per l'assegnazione di sei box iscrivendo nel registro degli indagati cinque persone. Sentiamo il servizio del direttore, Catiuscia Carpentieri. Ci sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati che a vario titolo hanno fatto parte delle commissioni per l'assegnazione di sei box presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria. Come già anticipato, nell'edizione di ieri delle 14 e 15, la squadra mobile di Ragusa e gli agenti del commissariato di Vittoria su delega della Procura di Ragusa hanno sequestrato numerosi documenti presso il comune di Vittoria attinenti all'assegnazione dei sei box presso la struttura mercatale. Le cinque persone iscritte nel registro degli indagati dunque fanno parte a vario titolo delle commissioni che assegnano i box all'interno del mercato. In questa occasione fanno sapere gli inquirenti la gara di assegnazione per diversi motivi non è mai giunta al termine a danno del comune Iparino che non ha incassato il canone di locazione ed è commercianti che invece avevano presentato la loro volontà di aggiudicarsi gli spazi pubblici. I documenti sequestrati dalla Polizia di Stato saranno molto utili per comprendere l'esistenza di ulteriori anomalie sull'assegnazione di questi sei box. Intanto l'associazione concessionari del mercato di Vittoria in una nota stampa firma del presidente Giorgio Puccia fa chiarezza in merito alla sentenza della terza sezione del Tar di Catania che ha respinto l'istanza cautelare proposta da sei concessionari ortofrutticoli contro il comune di Vittoria per l'annullamento degli atti con i quali la commissione straordinaria del comune Iparino aveva indetto il bando per l'assegnazione di 74 box. Puccia precisa che l'ordinanza non riguarda l'azione avviata dall'associazione concessionari del mercato di Vittoria e da tutte le 60 ditte attive all'interno del mercato a cui hanno aderito anche due associazioni di categoria del territorio. L'ordinanza alla quale fa riferimento il comune di Vittoria secondo quanto scrive il presidente Giorgio Puccia riguarda un'altra questione relativa all'invalidazione della procedura di assegnazione dei 6 box avviata nel 2015 e fondata su presupposti di fatto e di diritto assolutamente diversi. Il ricorso proposto dall'associazione dei concessionari conclude la nota firma di Puccia sarà trattato ad aprile e ad oggi il Tar non ha emesso alcun provvedimento. Si erano resi protagonisti di una violenta rapina lo scorso 31 gennaio in danno di una panineria di Mister Bianco nel Catanese. Dopo sorate indagini i carabinieri hanno arrestato un 42enne e un 32enne. I due individui di cui uno ha volto scoperto e l'altro con il viso parzialmente travisato da un cappuccio a un passo a montagna hanno fatto eruzione e minacciato di morte due dipendenti. Si sono impossessati dei registratori di cassa contenente 300 euro in contanti. Prima di andare via hanno preso a schiaffi un dipendente intimandoli intimandoli di non chiamare nessuno. Grazie alla denuncia del titolare e alle riprese delle telecamere gli inquirenti sono riusciti a risalire ai due malviventi. Già destinatario di un provvedimento di ammonimento per alcuni episodi di violenza domestica un 19enne ha continuato a vessare la madre per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri di San Michele di Ganzaria. Ieri pomeriggio il giovane è andato nell'abitazione della madre pretendendo di entrare e prendere l'auto e di avere anche dei contanti. La donna si è rifiutata e il giovane ha cominciato a rompere i vetri con un bastone. Non contento il ragazzo allontanandosi solo per poco è tornato e ha cominciato a minacciare di morte la madre anche davanti alla presenza dei carabinieri. Perquisito sul posto è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico. I carabinieri della tenenza di Scicli hanno deferito in stato di libertà la procura di Ragusa per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori 30 persone. Le indagini sono scaturite dopo le segnalazioni dei dirigenti scolastici ciclitani a seguito delle ripetute assenze dalle lezioni di giovanissimi che non partecipavano senza giustificato motivo alle lezioni della scuola dell'obbligo. 15 le famiglie sia italiani che stranieri che dunque non hanno temperato all'obbligo di istruzione e pertanto sono stati deferiti entrambi i genitori. Si continua a lavorare intensamente all'aeroporto di Catania per ultimare gli interventi nell'area di movimento della pista entro il 20 marzo data fissata dalla stessa SAC la società di gestione dell'aeroporto Fontana Rossa e intanto da oggi aumentano gli arrivi proprio per diminuire i disagi per i trasportatori. Ce ne parla Sara Donzuso. Proseguono in maniera spedita i lavori in aria movimento all'interno dell'aeroporto di Catania. Si lavora con turni che coprono le 24 ore in modo da diminuire il più possibile i disagi e completare questi lavori entro la data prevista ossia il 20 marzo. Da oggi tra l'altro possono atterrare 6 aerei ogni ora anziché 4. Questo sta permettendo di limitare ulteriormente i ritardi e conseguenti disagi per i passeggeri. Il regime di se arrivi all'ora proseguirà fino al termine dei lavori. Per i voli eventualmente dirottati su Comiso, il resto operativo e il servizio navetta richiesto alla SAC è fornito dalle autolinee Gian Porcaro del gruppo Sais Trasporti. Trasferimenti che tra l'altro sono aumentati su specifica richiesta dall'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. Da qualche giorno infatti sono raddoppiate le corse. Sempre la SAC invita i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Anche se garantiscono dalla SAC non si stanno registrando disagi né in partenza né in arrivo. Parliamo adesso dell'aeroporto di Comiso perché i passeggeri in partenza e in arrivo dirottati da Catania sullo scalo di Piola Torre fruiscono del servizio bus che garantisce puntualità senza disagi. Tuttavia alcuni, soprattutto i turisti che non erano al corrente del servizio, hanno comunque preferito organizzarsi diversamente. Mentre l'aeroporto di Catania i lavori procedono speditamente, l'aeroporto Casmeneo ha superato il test dopo che parte del traffico è stato dirottato su Comiso fino al 20 marzo. Le corse sono garantite, collegamenti tra Catania e Comiso dall'alba fino al pomeriggio. Solo ieri sono stati trasportati 1.900 passeggeri. Non ci sono stati disagi perché molti si sono organizzati con i bus? Dovevo partire da Catania. Disagio o non disagio questo spostato? Non disagio perché sono di Ragusa, però il disagio è la disorganizzazione, questo sì. Ma sapeva dei bus che comunque partono ogni ora da Catania a Comiso? Me l'ha detto adesso il tassista. Al servizio dei bus anche i taxi vengono richiesti? Sì, sì, in base alle decisioni che devono andare. Diciamo che a Catania già sono organizzati, però c'è chi va a Ragusa, va a Vittoria, va a Comiso e non li serviamo pure. Io sono comisano, devo volare su Comiso normalmente. Dovevo partire da Catania, però già domenica la compagnia ci ha detto che saremmo partite da Comiso e quindi siamo venute qua. Problemi o vi siete gestiti? Subito la compagnia ha gestito Ryanair in modo esemplare la situazione e quindi stiamo partendo per non rinunciare al nostro weekend. E adesso come vi muoverete? Con i bus, taxi, privatamente? Con la nostra macchina la compagnia ci rimborserà fino a 100 euro, quindi il rimborso della benzina. Per alcuni passeggeri, soprattutto turisti, ci sono stati invece dei disagi perché non erano al corrente di questo servizio di trasporto e quindi è incrementata la richiesta di auto al noleggio come anche taxi. Siamo stati informati via mail, però chiaramente io addirittura il volo di ritorno che ce l'ho per lunedì l'ho saputo ieri sera e quindi c'è un pochettino di disagio. Veramente eravamo organizzati su Catania perché noi siamo di Rosolini e sinceramente sono un po' in difficoltà. Adesso fortunatamente c'è un familiare che ha preso un'ora di permesso e sta venendo a recuperarci, però sostanzialmente c'è un po' di disagio. Dovevate partire da Catania per Malta? Sì, è vero. Come è stato il viaggio da Catania a Comiso? Vi siete spostati da soli? No, abbiamo fatto un taxi. È stato un problema? Sì, perché abbiamo dovuto pagare un sacco di soldi. Come hai pensato di muoverti? Con auto privata, taxi, autobus? Purtroppo con auto privata ho dovuto chiedere a mio padre di venirmi ad accompagnare perché i collegamenti dal centro della Sicilia. Io sono di Mazzarino, a Comiso non sono l'ideale. A lei è in attesa di un passeggero che doveva arrivare su Catania e invece è stato dirottato a Comiso? Sì, sì, sì. Anche perché la distanza c'è, non è vicino. Come vi siete organizzati? Macchina privatamente? Privatamente, chiaro. C'è anche un bambino di mezzo. La regione siciliana ha stanziato per il comune di Comiso come contributo straordinario un milione di euro per lo studio e l'implementazione della piattaforma cargo. Ne sono già stati trasferiti 600 mila, quindi siamo già all'opera. Lo ha dichiarato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha anche spiegato che il comune si era già dotato di un piano d'azione per la progettazione per l'area ex USAF. Oggi si è tenuta al comune una riunione che riguarda il primo step relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Seguirà il secondo che consisterà nell'inizione di una gara per il progetto definitivo di studio, accertamenti e indagini sulla situazione di salubrità dei luoghi. L'ultima fase riguarda l'acquisizione dei fondi litere per le istituzioni delle zone economiche speciali. Prosegue velocemente come ha garantito l'assessore regionale allo sviluppo economico Girolamo Turano, che ha incontrato la prima cittadina lunedì scorso a Catania. Ieri si è tenuto un incontro chiarificatore tra la regione e i libri consorsi comunali di Ragusa sulla vicenda dei doppi turni a Modica e Chiaramonte. Un incontro che si pone come punto di partenza. Ce ne parla Marco Scavino. Appena sarà possibile procedere alla revoca della disdetta dei contratti di affitto. E quanto è emerso dall'incontro di ieri pomeriggio tra l'assessorato agli enti locali, economia, istruzione e formazione e i commissari dei liberi consorsi a Palermo. Un incontro che doveva ufficializzare e fornire una soluzione ma che invece ha di fatto ribadito quanto detto più di 15 giorni fa. La soluzione c'è o meglio ci sarà, si deve aspettare per l'ufficialità. Dunque ieri la riunione è stato un punto di partenza e non un reale punto di arrivo. Così come era stato ribadito dalle forze politiche che avevano attaccato anche il sindaco Abbate per le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa. Il sindaco di Modica infatti aveva in sostanza anticipato quanto è emerso dall'incontro di ieri. Non siamo noi a dirlo ma i fatti. Lo stesso assessore all'istruzione Roberto Lagalla aveva ribadito la volontà del governo regionale di evitare in tutti i modi i doppi turni agli istituti Principi Grimaldi di Modica e il Galilei Campailla. A raccontare di un incontro costruttivo e confortante è stato l'onorevole Orazio Ragusa di Forza Italia che in una nota scrive è stato annunciato che il governo nazionale predisporrà un emendamento per permettere a tutte le ex province regionali siciliane, compresa quella di Ragusa, di chiudere in maniera positiva i bilanci. Questo significa che non ci sarà alcun rischio di doppio turno per gli istituti scolastici interessati, né adesso né in futuro. Al contempo l'ente di Viale del Fante potrà avviare la revoca dell'iter con cui era stata avviata la disdetta degli affitti. È di tutta evidenza però che fin quando non arriveranno le somme che consentiranno all'ex provincia di chiudere il bilancio, lo stesso ente non potrà introitare neppure un centesimo da spendere. Quindi è questa la condizione necessaria per poter avviare tutto il percorso che consente di scongiurare in via definitiva il ricorso ai doppi turni. Eravamo certi dell'impegno del governo regionale, non ci resta che aspettare ma siamo sicuri che il problema verrà superato. Queste invece le parole del sindaco di Modica, Ignazio Abbate. È stato avviato l'aggiornamento della rete sismica provinciale nell'ambito della convenzione stipulata tra il Consorzio Libro Consorzio Comunale di Ragusa e l'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La convenzione prevede tra l'altro una stretta collaborazione tra il personale e dei due enti che si realizzerà negli spazi del costituendo laboratorio di geofisica per l'ambiente e il territorio dell'ex provincia di Ragusa. I laboratori a finalità di ricerca, monitoraggio e sperimentazione sui temi di reciproco interesse e cominciare prioritariamente dal monitoraggio geofisico e ambientale finalizzato anche alla caratterizzazione del territorio provinciale ai fini della corretta pianificazione territoriale. Il manager dell'Asp 7 Angela Licquo ha revocato il provvedimento del 15 gennaio scorso con il quale erano state dichiarate infette alcune zone della provincia di Ragusa in riferimento alla Blue Tongue. Sentiamo il servizio. Comiso Vittoria, Modica, Scicli che ricadevano nel raggio di 20 km dall'azienda Focolaio non sono più considerate zone infette da Blue Tongue. La revoca del provvedimento del 15 gennaio scorso è stata emessa dal manager dell'Asp 7 Angela Licquo a conclusione dell'indagine epidemiologica svolta al servizio di sanità animale dell'Asp trascorsi 60 giorni previsti per legge dell'ultimo caso di Blue Tongue accertato dall'azienda Focolaio. Per effetto della revoca dunque gli allevamenti della specie sensibile al Blue Tongue a bovini e ovini della provincia di Ragusa sono compresi in parte circa 1000 allevamenti in zona di protezione, in parte circa 700 allevamenti in una nuova zona infetta. Quest'ultima include parte dei territori di Gioratana, Chiaramonte, Modica e Ragusa ed è stata determinata da un nuovo focolaio di Blue Tongue, il siero positivo 1,4, accertato in territorio di noto lo scorso 4 marzo. La movimentazione degli animali di allevamento appartenenti alla specie sensibile alla Blue Tongue con le attuali disposizioni del Ministero della Salute è possibile per i capi detenuti in allevamenti che ricadono in zona di protezione, libera movimentazione su tutto il territorio regionale, movimentazione verso territori indenni di altre regioni alle condizioni di esito negativo alla test PCR degli animali da movimentazione effettuata a cura dell'Istituto Zoprofilattico sperimentale nei sette giorni precedenti alla movimentazione. Il trasporto di animali effettuato nelle ore di urne con autometri trattati con insetticida autorizzato, animali protetti individualmente dall'attacco degli insetti vettori del virus, con il trattamento con insetti repellenti da almeno una settimana prima del trasporto, nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto, trasporto in vincolo sanitario degli animali direttamente all'azienda di destinazione. Per i capi detenuti in allevamenti invece che ricadono nella zona infetta, sierotipi 1 e 4, la movimentazione è consentita nell'ambito della regione siciliana, previa vaccinazione e movimentazione fuori dal territorio regionale, con la vaccinazione e test PCR negativo nei sette giorni precedenti lo spostamento. Gli uffici veterinari dei distretti di Ragusa, Modica e Vittoria sono comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Anche l'edizione 2019 di Unistem conquista Catania e il mondo. Nuova tappa a Catania per Unistem Day, per far conoscere e innovare l'infinito viaggio della ricerca scientifica sulle cellule staminali agli studenti e alle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni. Nato nel 2008 a Milano da un'idea della professoressa Elena Cattaneo, l'evento si è negli anni ampliato fino ad estendersi in tutta Europa per promuovere unitariamente una visione più matura e consapevole dell'importanza e lo studio della conoscenza per se stessi e per gli altri insieme nel contesto di un'Europa unita nella scienza. Quella del 2019 è l'undicesima edizione che sta coinvolgendo 99 tretenei e centri di ricerca in Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia e Ungheria. Ben 20.000 gli studenti italiani che, sparsi nelle 50 università della penisola attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio, ma anche momenti teatrali e giochi hanno potuto osservare da vicino i tanti volti del mondo e la ricerca scientifica. Per questo viaggio affascinante della ricerca scientifica, ma conoscenza significa essere profondamente umani e quindi significa semplicemente entrare in tutto quello che è il rapporto col mondo. Ci sono due argomenti che verranno sviluppati in particolare di enorme attualità. Da una parte abbiamo l'argomento dei vaccini, che ha un suo aspetto scientifico, ma anche un aspetto legislativo importante e sociale, e dall'altro la plasticità del cervello. Siamo anche nella settimana della conoscenza del cervello e quindi questa nostra iniziativa si inserisce perfettamente in quello che è lo spirito internazionale sulla ricerca scientifica. In ricordo del grande archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, questa sera sarà dedicata una puntata di Merabò in onda alle 21.05. Ospiti in studio l'archeologo Giovanni Di Stefano, in collegamento da Bucarest, il vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, e da Roma il responsabile del coordinamento nazionale dei piloti Danilo Recine. L'appuntamento dunque con Merabò alle 21.05. Alle 22 torna M Salute, con una nuova puntata dal titolo Alimentare il proprio benessere. Ospite di Giada Giacquinta, il dottore Vincenzo Messina, nutrizionista. L'appuntamento è alle 22.00. Si chiude la settimana di Vi racconto con Enzo Gibino, analisi politica, ma anche idee per sviluppare il turismo in Sicilia. L'appuntamento è alle 19.05. Dieci anni fa moriva il piccolo Giuseppe Brafa. Ieri all'oratorio di Modicalta si è tenuto il tradizionale trofeo e il torneo in suo onore, mentre oggi a Scicli una conferenza per discutere del fenomeno randaggismo. Anche quest'anno l'oratorio San Domenico Savio di Modicalta ha voluto ricordare il piccolo Giuseppe Brafa, ucciso dall'aggressione di un branco di cani, incontrato a Pisciotto, a San Pieri, in territorio di Scicli, il 15 marzo del 2009. Sono trascorsi dieci anni da quel drammatico episodio che sconvolse tutta la comunità iblea malintera Italia, che il 15 marzo, sintonizzata alla televisione, apprendeva che un bambino di Modica era stato sbranato da un branco di cani e, purtroppo, per lui non c'era stato nulla da fare. La tragedia di Giuseppe, però, oggi deve insegnare che la vita va vissuta veramente, con gioia, così come lui, nella sua breve esistenza, ha potuto dare testimonianza. Lo ha sottolineato il responsabile dell'oratorio San Domenico Savio di Modica, Daniele Spadola, che ricorda molto bene la figura del piccolo Joe Peppe, così lo chiamavano i suoi amici. Joe Peppe era un esempio di gioia, da lì il suo ricordo con un bel torneo di calcio, sport che Giuseppe amava, torneo che si chiama Giochiamo con Gioia. Ricordare Giuseppe, sì, sicuramente, senza dimenticare la tragedia, ma ricordandolo proprio con i sorrisi, con gli sguardi di chi ha voglia di vivere e di vivere bene questa vita che ci rimane di vivere su questa terra. Lo facciamo all'oratorio, nel campetto che abbiamo dedicato proprio a lui, campetto Gio. Questo campetto all'oratorio non solo vede i ragazzi che ogni giorno giocano all'oratorio, ma anche altre iniziative, altre tornei, e ce ne saranno tanti. Fra poco anche il mini mondiale dedicato a Nino Baglieri. E quindi vogliamo che Giuseppe rimanga sempre ai nostri ricordi. A ricordare il piccolo Giuseppe Brafa anche un suo amico, Davide. Giocava, era sempre sorridente, quando si faceva male non diceva nulla, se usciva prima dal campo non piangeva. Questo dovrebbe essere l'esempio di riportare anche in tutte le scuole calcio e in tutti i gruppi di giovani che ci sono in giro. Usare sempre il sorriso che aveva Giuseppe. Con Giuseppe noi abbiamo fatto tante cose, ad esempio quasi sempre eravamo in giro, giocavamo con la Playstation e non abbiamo mai litigato. Al via la Sagra della Seppia, Donno Lucato. E' tutto pronto per l'evento più atteso e richiesto in territorio ciclitano, la Sagra della Seppia, che oggi inizia con chili e chili di molluschi, pronti per diventare manifesto di una tradizione gastronomica che in Donno Lucato trova perfetta ubicazione. Un evento che si prospetta di successo vista l'intensa macchina organizzativa che ha visto la guida di Gianni Voi. I laboratori si terranno dalle 12 alle 19. Questa edizione è realizzata in collaborazione con l'associazione provinciale Cuochi Blei. Si inizia stasera, venerdì, con lo chef Marco Failla, che preparerà la seppia farcita con ricotta, pancetta croccante e limone caramellato. Sabato 16 marzo, a pranzo, ci sarà chef Trisha Vinzi, con l'insalata di seppia su zuppa di pomodoro sicula, passiluna, burrata e gota crunch. Insieme allo chef Salvo Vicinale, con i suoi riccioli di seppia scottati su crema di mandorle al limone, nero e olio al basilico. Sempre sabato, ma di sera, sarà la volta dello chef Massimo Schininà, con il cucciato, mantecato al nero con seppie, zucchine e salsiccia chips. E dello chef Michelangelo Mollame, con un cruditè di seppia aromatizzata a lime, su crema di macco di fave, ricotta di bufala e polvere di nero di seppia. La domenica, a pranzo, protagonisti saranno lo chef Riccardo Cilia, con le tagliatelle di seppia, finocchio, mango e schiuma di pompelmo. E dello chef Luca Giannone, che preparerà invece una tagliatella di seppia saltata, aglio, olio e peperoncino, servita su crema di zucca, lenticchia soffiata e carbone di olive. Infine, la domenica sera, lo chef Angelo Di Tommasi preparerà l'ampanata di seppia aperta, un cestello di timilia, con seppie di pomodoro datterino di cicli, passolina, finocchietto selvatico, risotto al nero e mollica tostata. Mentre chef Gaia Jurato realizzerà una polpettina di seppia, cuturro e mandorle, piselli, crema di ricotta, cipolla allo zafferano e pomodoro datterino soleggiato. È tutto, buon proseguimento di giornata! Grazie a tutti!